musica 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 bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo su un giochino che ho trovato su internet che si dovrebbe chiamare non lo so vuoto e insaziabile è un gioco stupido signori, ma ogni tanto ci vogliono dei giochi stupidi da portare sul canale e li stiamo portando, allora in cosa consiste siamo patente di un buco nero che risucchia tutto, non lasciamo in vita nulla dobbiamo vincere, partiamo subito signori, guarda che carino, guarda che stiamo carini guarda che stiamo carini, abbiamo un tempo che praticamente equivale a tre minuti ci mangiamo tutto, tutto quello che ci possiamo mangiare, guarda 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 mi mangio pure questo no te bagno subito signori diventiamo grossissimi no non sono riuscito a mangiarmi quello ci mangiamo il kebabaro, il kebabaro delle panchine queste panchine non sono messe bene qui magna delle panchine, magna tutto la signora, ci mangiamo la signora, ci mangiamo anche Virginia vieni qua Virginia la signora qui è messa male ci stiamo mangiando qualsiasi cosa signori perché avere un'impresa di pulizie quando puoi avere dei buchi neri che ti mangiano tutto guarda guarda guarda, non lasciamo niente questa macchina si posteggia sul marciapiede signori si posteggia sul marciapiede no, via il nuovo carro attrezzi signori guardalo così questa pure sul marciapiede non si posteggia sul marciapiede signore, lei qui non ci può stare, via eliminato, andiamo avanti venghino, venghino, questi padri della luce li leviamo questa sta guardando il mare, non lo può guardare il mare in questo periodo dell'anno quindi la eliminiamo velocemente e altre macchine sul marciapiede ma signori, aspettate questa ce la mangiamo pure velocemente magnatelo queste macchine sul marciapiede non ci possono stare le eliminiamo cortesemente grazie, sia una che due e che tre signori questi che stanno a fare? stanno a correre tutti assieme guarda come le faccio il filotto uno, due, tre, quattro, cinque e sei namos signori, pulizia totale fatta ok, queste macchine qui sono parcheggiate male non hanno pagato il biglietto signori questa è zona blu, ci sono strisce blu e questi non li hanno pagate l'ambulanza la leviamo pure dalle scatole dai così, dai così, dai così dobbiamo riuscire a fare un botto di punteggio signori voglio diventare grosso grosso, voglio mangiarmi i palazzi come faccio a mangiarmi i palazzi? mangiati qua la signora, mangiati la signora ok, veloce, rapido e indolore quello sta scappando, ce lo andiamo a mangiare velocemente dove stai piccolo mio, vieni qua dai dai che insieme diventeremo più forti, questi secondo voi me li posso mangiare secondo me si secondo me questi me li pappo come se non ci fossero domani dai 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 e il primo è andato signori, mangiamoci anche il secondo stiamo rimanendo da soli in questa partita guarda come sta cercando di scappare guarda come sta cercando e ci sta anche riuscendo mannaggia lui io mi mangio qua i signori, ok mangiamoci la macchina della polizia che è parcheggiata sul marciapiede e non ci può stare e bello, 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 bello c'è uno piccolino che è indeciso Alex, c'è Alex in questo in questo gameplay, ce lo andiamo a mangiare male sia l'uno che sia lui che il suo papà apposto, ce li siamo mangiati tutti ci mangiamo qua il parco giochi dai così, questo palazzo me lo posso già mangiare? o ancora no? uuuuuh, signori ci siamo mangiati pure il palazzo parliamone eh, siamo insaziabili, signori ma quanto siamo diventati grossi siamo enormi mancano mai pochi minuti abbiamo fatto 200 punti possiamo... bello così puliamo tutto, puliamo tutto tutto manca un minuto, signori manca un minuto e non ci fermiamo non ci fermiamo la stazione di pulizia non lo posso mangiare? fe 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 fe, mangati sto palazzo lo possiamo eliminare sto palazzo questo no, ma questo sì dai così ancora noi palazzo eliminato mangiamo, facciamo pulizia pulita di questi ok come se non ci fosse un domani bello, bello, bello 297 punti riusciamo a fare cifratone 300 punti dai così questi palazzi qui che sono parcheggiati sotto questi, queste costruzioni non sono, non sono, non sono, non sono no, non riesco a mangiarmelo questo questo riesco a mangiarmelo? no, eh vabbè però me lo sto... aspettate sono indeciso forse, forse no, è grosso è grosso ma io non sono abbastanza grosso l'ho, l'ho sparato via non me lo posso mangiarlo se non me lo posso mangiare lo sparo via va bene così questo, un altro po' cosino qui me lo posso mangiare mancano gli ultimi 3 secondi 2 secondi un secondo abbiamo fatto 315 punti signori non ci sono altri buchi neri 315 punti signori tanta roba tanta roba riproviamo, vediamo se riusciamo a battere il record riproviamoci riproviamo restart dai 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 subito 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 dobbiamo essere veloci giustamente più diventiamo grossi più diventiamo lenti quindi dobbiamo essere veloci subito a mangiarci tutto il tutto il tuttologo fermo fermo che questi i cosi della posta sono tutti me e anche tu sei no, è diventato più grosso di me come ha fatto a diventare più grosso di me? che babbara ormai è diventato un un appuntamento fisso signori che babbara ormai è diventato un appuntamento fisso ce lo mangiamo a prescindere allora dobbiamo riuscire a a dobbiamo riuscire a riesco a mangiarmi quest'autobus? no no, questo no però questi due buchi neri me li mangio come se non ci fossero domani dai cosi questo riesco a mangiarmelo? no, 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 no lavoriamo piano sulle macchine lavoriamo piano sulle macchine devi mangiartela ok, mangiati questa mangiati quest'altra macchina questa solito non pagano le strisce signori ce li mangiamo se non paghi il parcheggio fai la brutta fine questo? ok questo è mangiato vediamo se riusciamo a fare pulizia qua mangiamo o ci mangiano? mi sa che ci mangiano via, 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 via via, 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 via così diventiamo grossi grossi allora, facciamo una volta mangiamoci questi tre piccoli porcellini che sono andati al pascolo eliminiamo queste macchine parcheggiate qui ok anche l'ambulanza via così rapido in dolori quant'è il nostro record? 315 se non sbaglio mh 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 stiamo andando un pochino a rilento vediamo se riesco a mangiare se mi mangio tutti questi signori è tantissima roba ma non lo posso mangiare siiii e uno è andato aspetta che mi mangio pure a te è inutile che scappi dai, è così mangiati come se non ci fossero domani elimina queste macchine che sono lasciate in mezzo alla strada e non va bene questa cosa leva tutto, leva tutto, leva tutto ok no, state di mangiare ok bello così scendiamo, scendiamo andiamo a cercare il parco perché nel parco c'era tantissima roba abbiamo gli ultimi due minuti dai, 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 dai qualche buco nero che spunta così a caso? no uuuuh questi sono morti signori questi sono morti questi non lo sanno ma sono tutti morti e uno e due, tre, quattro e cinque il kebabaro ce lo mangiamo di nuovo ok stiamo facendo piazza pulita si vede tantissimo mamma mia mamma mia questi stanno correndo verso la morte questi stanno correndo verso la morte e non lo sanno mamma che siamo grossi siamo grossissimi cento centottantuno punti tresi mi dispiace farei una butta fine tu e il tizio qui che sta guardando il mare un minuto e trenta un minuto e trenta abbiamo centotrenta cento mamma mia che siamo lenti però siamo lentissimi siamo lentissimi non va bene così andiamo al parco andiamo a fare una passeggiata al parco signori una passeggiatina al parco ogni tanto ci sta dai così dai così magnate tutto quello che c'è sta al parco questi due buchi neri te li mangi pure in maniera pulita rapida in dolore mangia facciamo pulizia totale al parco va bene così come sono giusto un domani pulizia 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 ah tra l'altro io mangio e lui respawna ok perfetto quel tizio ci sta puntando ci ha sfidato e morirà male ok 252 abbiamo gli ultimi secondi dai 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 il palazzo tanta roba questo me lo posso mangiare vieni qua che ti ho già mangiato dai così più 7 punti questo purtroppo non me lo posso mangiare questo me lo posso mangiare eh questo si dai così dai che c'entra 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 ma vaffan perdo tempo a mangiarmi sti così piccoli dai 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 questo me lo son mangiato la 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 se mi piglio questi due mi posso mangiare a quei palazzi se mi piglio questi due mi posso mangiare a quei palazzi Dai, più 5 Dai, 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 più 5 Palazzo 1 Palazzo 2 Ah, mannaggia Buconero, buconero, dai, 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 dai Sei mangiato, mamma mia 312, 320 Ok, signori, obiettivo raggiunto Palazzo sul finale, bel ruttone, non ne parliamo più 330 punti, signori Più di questo io non riesco a fare 330 punti, penso che sia Un ottimo risultato, signori Se volete altri episodi di questo giochino Che sicuramente è intrippante, fatemelo sapere Nei commenti, io vi invito A sfidarmi e a farmi sapere voi quanto riuscite A fare in questo giochino, detto questo, signori Grazie per i like, per i commenti, per i suggiunti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video Bella raga, ciao